Torna alla festa del Duca, appuntamento fisso nell'estate urbinate, quattro giornate all'insegna di spettacoli e attività. Si guarda alla storia un tema specifico, tra l'altro, anche per l'edizione di quest'anno. Sì, ci sono due doppi temi per l'aspetto culturale e anche rievocativo. Dedichiamo alla pace e alla figura femminile. L'inaugurazione sarà affidata all'orchestro Olimpia, che sono 40 maestre, tutte donne, e verrà consegnato alla direttrice d'orchestra dal professor Ilvo Diamanti il premio Giovanni Santi. Tutto al femminile, ma al femminile sarà anche il tema della rievocazione, perché, appunto, parleremo del matrimonio di Elisabetta con Roberto Malatesta e quindi questa pace tra i Montefeltro e i Malatesta. Peraltro questo testo di, appunto, Tiziano Mancini verrà rappresentato il giorno 13 nel cortile di Palazzo Ducale, proprio su Elisabetta Feltria. Poi ci sarà l'interpretazione di attori di Marefori e di Brennero della serie. Quindi, insomma, un aspetto culturale molto importante legato poi all'aspetto popolare il cui tema quest'anno si rifanno agli elementi platonici e poi ripresi dal nostro Pacioli e quindi ci saranno spettacoli di terra, di fuoco, di aria e di acqua con compagnie internazionali, quella appunto di Stardust, che farà il 13 uno spettacolo alle ore 11 in piazza Duca Federico, proprio veramente spettacolare. E poi, chiaramente, concludiamo con il nostro gioco storico, il gioco dell'Aita a Borgo Mercatale con i consueti fuochi finali. Lo scorso anno abbiamo avuto il riconoscimento del Ministero della Cultura come seconda manifestazione culturale. Adesso speriamo, aspettiamo le nomine proprio in questi giorni e speriamo durante la festa di poter annunciare, anche per quest'anno, di essere saliti sul podio nazionale. Quattro giorni importanti per la città, per gli urbinati, per il territorio, ma anche con un respiro nazionale, i turisti potranno conoscere la città di Urbino e i suoi fasti rinascimentali. La festa del Duca è un importante evento della nostra città che permette ai turisti di conoscere Urbino e non solo ed è per questo che l'organizzazione quest'anno ha fatto quattro giornate bellissime e piena di eventi. Ringrazio il Presidente Crespini che ogni anno si impegna in questo tutti i suoi collaboratori ma soprattutto alle contrade, i commercianti e tutti gli sponsor che sono sempre numerosi e questo è indice di valore di queste iniziative. Il mio contributo che darò a partire dal prossimo anno cercando di unirmi agli sforzi dell'Ars e non solo, sarà quello di portare sempre più turisti e far sì che i turisti si fermino non solo un giorno ma più giorni all'interno di questa manifestazione e questo potrà essere fatto anche collaborando con città vicine in modo che il turista possa visitare posti vicini ad Urbino e non solo Urbino e questo sarà sicuramente un valore aggiunto per la nostra città e non solo.